Gentili telespettatori, buona giornata. Calenda viene denunciato, querelato, trascinato in tribunale da Landini, il leggendario capo della CGL. CGL, ricordiamo quello dei contratti a 5 euro l'ora, giusto così per rinfrescarci ogni tanto la memoria di chi e di che cosa stiamo parlando. Perché il buon Landini, l'interpretatore di dati, ha confermato di aver querelato Carlo Calenda per le accuse mosse in merito ai rapporti del sindacato con Fiat e la Repubblica? Lo ha annunciato durante la trasmissione Restart su Rai3. Nello specifico il leader di azione avrebbe ribadito che la CGL avrebbe ammorbidito i toni sulla questione Stellantis per tenersi buona Repubblica. Allora Calenda ha proprio detto questo qua, dice Stellantis, Fiat, si sono comprati il quotidiano Repubblica perché fa sempre comodo avere un quotidiano che può parlare di questo quello e quell'altro. E dice Calenda, magicamente né Lashlein né Landini hanno più detto e speso mezza parola sulla Fiat, su Stellantis, facendo intendere che per tenersi buona Repubblica e non essere criticati da Repubblica, allora Landini fa silenzio e non dice nulla sulla Fiat, su Stellantis. Io credo così, non sono un giudice, non sono un magistrato, però credo che le affermazioni di Calenda possano rientrare assolutamente in una questione di critica e di commenti. Questa non è un'accusa o diffamazione o chissà che cosa, a me sembra che non lo sia, perché se adesso non puoi più dire e tirar fuori la tua opinione, perché Calenda ha detto, secondo me Landini si tiene buono Repubblica non parlando di Stellantis, ma non mi sembra una roba da tribunale, dai ma allora qualunque frase puoi portare le persone in tribunale. Diceva che brutta cravatta, adesso ti porto in tribunale perché mi hai diffamato, io adesso mi sento insicuro perché mi hai detto che ho una brutta cravatta, da adesso in poi ho dei problemi di autostima, insomma ci vuole anche un limite nel ricevere le denunce, nel senso che quando uno riceve una querela dice scusi guardi che questa qui non può procedere, però secondo me è una querela che non va da nessuna parte, infatti Calenda dice vabbè dai ci vediamo in tribunale, poi ce la raccontiamo in tribunale, il fatto è che queste cose qua ti fanno perdere soldi di avvocati, a Landini che deve pagare gli avvocati, Calenda che deve pagare gli avvocati per far perdere tempo alla giustizia italiana, perché Calenda ha detto che secondo lui Landini per tenersi buona repubblica non critica la Fiat? Mi sa che stiamo un po' esagerando, mi sa che stiamo un po' esagerando. Landini a tal proposito ha detto che ne risponderà e che è già stata fatta una querela, non ci sto a questo livello di discussione, dice trovo singolare che oggi si dica questo di quelli che hanno sempre contestato pagando dei prezzi, quelli che oggi parlano ha proseguito, la Meloni era nel 2008-2011 in un governo che ha fatto leggi per favorire la Fiat anche se non poteva farlo e il ministro Calenda ha fatto il ministro anche lui per molte altre cose, non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo fatto le nostre battaglie, quando il governo ha fatto un prestito alla Fiat abbiamo chiesto che entrasse come azionista che non desse soldi a pioggia. Questo mi sembra giusto, è un po' come nelle società, io ti do 100 milioni di euro, bene, tu mi ricambi cedendomi 100 milioni in azioni, in modo che io non ti sto regalando ma io divento azionista e se te ne do altri 100 milioni tu mi dai 100 milioni delle tue azioni. Ecco, questa è una cosa intelligente, piuttosto che dare soldi buttati perché quelli alla Fiat sono soldi, mi sembra, ho sentito delle cifre pazzesche, ho sentito in una trasmissione televisiva che la Fiat nell'arco di tutta la sua vita abbia ricevuto, tenetevi forte, un qualcosa come 230 miliardi, più del PNRR. Diciamo che oggi lo Stato dovrebbe essere proprietario della Fiat al 100%, perché con 230 miliardi, adesso io non so quanto può valere la Fiat, quanto può valere questo gruppo, però 230 30 miliardi, insomma, sono tantini, ecco, magari lo Stato oggi non sarebbe proprietario ma magari al 50% o azionista di maggioranza, quindi su questo posso dare ragione anche a Landini che non si prestano, non si regalano i soldi così alla viva al parroco ma ti do i soldi, tu in cambio mi dai le azioni, no? Qua nessuno è fesso, invece i governi italiani hanno fatto i fessi per molti anni e così replica Carlo Calenda con un breve video su YouTube, sul profilo del partito azione, dice Landini non ha accettato il confronto televisivo ma ha deciso di quarelare un parlamentare, accetterò il confronto anche se avverrà in tribunale, quindi Calenda ha chiesto un confronto con Landini e Landini l'ha querelato, ma io mi sono sempre chiesto, ma a sinistra, sindacati o non sindacati, sapete che democrazia significa dialogo, confronto, confronto? Se tu sei un democratico e ti fregi di appartenere a quest'area democratica dovresti dire, certo Carlo Calenda facciamo un confronto televisivo sulla Fiat, però se tu dici no al confronto televisivo e quereli, capite che insomma fa venire qualche dubbio, qualche sospetto, no? È normale e umano che venga qualche piccolo dubbio, voi mi capirete, vero? E così il senatore Calenda ha poi confermato le sue precedenti parole in merito al rapporto con Repubblica e Fiat, stilando un elenco di quelle che Calenda ritiene incongruenze nel comportamento del segretario della CGL. Ha fatto, dice, una battaglia contro Marchionne su tutte le televisioni e tutti i giornali. Continua mentre la produzione di Fiat FCA saliva di circa 350.000 autoveicoli a più di un milione. Lo ha fatto quando Marchionne ha comprato la Chrysler e ora da quando gli Elcan hanno comprato Repubblica tutto è cambiato. Ha detto che a vendita di Fiat a Stellantis è una grande operazione davanti al fatto che Fiat ha già diminuito di 7.000 persone il suo personale in Italia, Landini non ha quasi mai nominato la parola Stellantis. Beh, certo, Calenda non è uno che parla a vanvera, insomma, e ha confermato quelle che Landini reputa delle accuse da tribunale. Secondo me non sono da tribunale però vedremo poi quello che succederà. Arrivederci a tutti e grazie.